Corvino cade l'arbitro, Corvino mette in aria un pallone che Musacco con un bellissimo scatto di Reni mette in calcio Nardò pericoloso. Vediamo cosa succede, si inventa qualcosa l'arbitro. Vediamo cosa si inventa l'arbitro. Si deve far medicare, avevamo temuto qualche provvedimento di quest'arbitro, avrebbe stato capace anche di cacciare qualcuno perché magari si sono messi a ridere per la sua goffa caduta. Calcio d'angolo di Corvino, niente, non entra il pallone ancora Corvino, cross, niente, anzi è Rizzi. Nardò ci riprova, sulla destra è buono, Rizzi, Rizzi, incredibile di Fino, non riesce a tirare. Non riesce a tirare, c'è anche qualche stupido fumogeno con gli spalti. Grazie. Grazie.